Comunque è giocato con ritmi molto alti perché comunque il mister Persia ci aveva preparato così durante la settimana però pure da loro non è mancata molta velocità, molta bravura tecnica e anche molta esperienza che comunque ci ha messo anche certe volte basso in tra le ruote, infatti hanno iniziato il primo tempo vincendo 2-0 e noi abbiamo preso anche un blu subito dopo e questo comunque ci ha spiazziato però comunque essendo una squadra molto giovane si pensa che siamo comunque fragili mentalmente ma non è stato così, abbiamo saputo reagire, abbiamo comunque retto questo colpo che ci è stato dato e abbiamo raggiunto l'obiettivo che volevamo raggiungere alla fine della partita Per quanto riguarda la settimana comunque abbiamo preparato bene e oggi comunque il mister Persia ha saputo fare cambi nei momenti giusti e che servivano senza aver sbagliato Per quanto riguarda il Grosseto invece ha giocato comunque finché ha potuto con ritmi molto alti e anche ci ha messo quell'esperienza che forse a noi manca un po' però comunque noi combattiamo fino alla fine finché l'arbitro non fischia tre volte